siamo con i proprietari di questa nuova concessionaria nissan è stata inaugurata oggi qui in sant'agostino nissan questa concessionaria che sa anche sponsor del pistola basket per la stagione corrente ce ne parlano i proprietari se noi siamo molto felici di aver aperto la settima serie della project politotti su pistoia e nostra volontà farsi trovare presenti sulle iniziative del territorio attraverso sponsorizzazione e sicuramente non possiamo non considerare la sponsorizzazione del pistola basket sì assolutamente abbiamo deciso di collaborare appunto anche il pistola basket che è una realtà importantissima nel territorio e speriamo di diventare tifosi anche noi molto molto velocemente e quindi abbiamo deciso di partecipare in maniera attiva anche a questa realtà importante del territorio